Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Ma è vero che ha detto quando è stata eletta che Azione diventerà il primo partito? Sì. Perché uno deve sognare in grande. Io sono convinta che ci siano tutte le condizioni per che Azione diventi il primo partito italiano. E lì in assemblea io ho fatto riferimento a tre elementi che incoraggiano questa ambizione. È naturalmente un obiettivo molto ambizioso, ne sono consapevole. Ma non è un obiettivo impossibile e soprattutto è un obiettivo necessario perché c'è bisogno nel nostro paese di un partito di centro che dia equilibrio, stabilità al nostro sistema politico. Che non è più Forza Italia per capirci. No, non è più Forza Italia. Forza Italia ha rinunciato a esercitare quel ruolo. C'è bisogno di fare quello che non ha fatto Forza Italia. C'è bisogno di salvare il paese dagli opposti estremismi, non di accodarsi agli estremismi, di salvare il paese da quei populismi. Per lei per esempio il PD è estremista? Il PD ha simpatie smaccate per il Movimento 5 Stelle. Continuano a inseguire Conte, a corteggiarlo, a chiedersi ma perché Conte non ci degna di uno sguardo. E c'è un'anima... Vede, il bipolarismo italiano, uno dei tre elementi che ho citato nel corso della mia relazione all'Assemblea che incoraggiano il nostro impegno a fare di azione nel primo partito italiano, riguarda intanto il declino del populismo mondiale. Guardiamo quello che è successo negli Stati Uniti dove il trumpismo non ha prevalso. Guardiamo anche la sconfitta di Bolsonaro. Le fa riferimento alle elezioni di medio termine in cui doveva esserci quest'onda che non è arrivata. Sì, erano i due riferimenti del populismo mondiale. Quindi quest'onda arriverà anche nel nostro paese. Sarebbe già arrivata se i cosiddetti moderati di casa nostra non tenessero in vita, con il respiratore artificiale, i sovranisti di casa nostra per qualche imposto nel governo. Ma un altro elemento è la crisi del bipolarismo italiano. Cioè il bipolarismo in Italia aveva un senso quando nel centro-destra, e si reggeva in equilibrio, quando nel centro-destra prevaleva l'anima liberale, moderata. E quando nel centro-sinistra... Cioè quando Berlusconi aveva un ruolo di guida vera? Esattamente. E quando nel centro-sinistra prevaleva invece la trazione riformista. Adesso che invece liberali moderati da un lato e riformisti dall'altro si sono ridotti un po' a fare le ruote di scorta, no? Dei riformisti, dei populisti e dei sovranisti. Allora, i due schieramenti sono diventati come... Cioè Letta fa la ruota di scorta di Conte? Guardi, allora Letta, diciamo che ha preso una posizione che non si capisce che posizione è, ma quelli intorno a Letta però fanno il tifo perché il Partito Democratico riallacci l'alleanza con Giuseppe Conte. No, perché vedo Alessio che evidentemente ha notizie. Queste due gabbie ideologiche che sono i due schieramenti, in realtà non rappresentano più moderati riformisti liberali, popolari, che sempre di più andranno in cerca di una casa. Quella casa c'è già là, noi proponiamo la casa. E noi la rafforzeremo sempre di più e la renderemo accogliente. E' chiaro. Alessio? La prima notizia che voglio darvi, vedete anche dal tablet, da iPad a tre asterischi, significa in gergo che è una notizia importante, il deputato Abubakir...